Buongiorno, in questo breve tutorial del nostro software gestionale GoWeb avremo modo di vedere una nuova funzionalità, ovvero Servizi e Gestione Rapida. Questa funzionalità ci permetterà di gestire i nostri listini, ovvero inserire nuovi servizi o modificare i servizi esistenti. Allora, per l'inserimento di un nuovo servizio è molto semplice, con questo più in alto a destra, sarà possibile creare un nuovo servizio registrando tutte le informazioni. Ricordate solamente che le righe gialle sono le informazioni che dovete compilare obbligatoriamente. Dopodiché potete fare i procedi e il nostro servizio è registrato. Mentre per la modifica di un servizio esistente, fate attenzione a due informazioni che sono evidenziate con due colori differenti, ovvero la prima parte blu, quindi quelle relative diciamo all'anagrafica, sono modificabili in questa prima parte. Quindi io adesso ho selezionato il mio servizio, vado in questa parte blu e ad esempio modifico il colore. Quindi scelgo il nuovo colore e dopodiché faccio salva. Mentre se devo modificare informazioni relative al prezzo o al tempo, vado nella parte rossa, quindi seleziono il servizio, modifico ad esempio il tempo, 20 minuti, e poi faccio salva. Quindi le modifiche sono molto semplici. Se invece volete invalidare un servizio, quindi archiviare, è sufficiente selezionare e cliccare il cestino. Quindi rimuovi. Quindi Grazie.